Erano le 19.16 di ieri, 19 luglio 2016, non è coincidenza non voluta, quando Giuseppe Colibazzi e Danny Galassi hanno deciso di dire basta, fermando il timer a 52 ore e 56 minuti, nuovo Guinness World Record, longest tattoo session, team of two, cioè il tatuaggio su un'unica persona più lungo di durata al mondo. Un'impresa storica e di notevolissimo sforzo fisico, soprattutto considerando la massima concentrazione da tenere e la mancanza di ore di sonno, soprattutto per Colibazzi, mentre per Galassi messa a dura prova la resistenza fisica al dolore, con quasi tre giorni di disegni su tutto il corpo. Allora l'emozione è grandissima, siamo stati qua due notti e due giorni interi, posso dire che siamo distrutti in questo momento, però fino a un'ora prima eravamo in piene forze e con pieno coraggio, contentissimi. Distrutti ma felici? Assolutamente sì. Ci sono stati momenti difficili in cui anche io ho calato e anche Peppe ho calato, ma insieme ci siamo tirati su. Molti i disegni e i visi di personaggi famosi, da Bud Spencer, Johnny Depp, da Bob Marley, al viso del maestro Colibazzi, dalla dedica al papà per finire con una stilizzazione di Alien contro Predator sulla schiena. Ai due non è mai mancato il sostegno della gente, curiosi e amici che da domenica mattina alle 10 sono passati nel negozio di Civitanova Marche, con presenze di ogni età e soprattutto con grande curiosità dei più piccoli a sottolineare come la filosofia e la cultura del tatuaggio non sia più un tabù per le famiglie. Ora tutta la documentazione di verbali, foto e video, tra l'altro l'impresa è stata ripresa interamente dalle nostre telecamere, sarà inviata alla Guinness World Record che in pochi giorni convaliderà, speriamo, questa storica impresa. Grazie. 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 Grazie.